Maria Elisa D'Amico, Prorettore Università degli Studi di Milano. Grazie, io ringrazio moltissimo tutti gli organizzatori, non li cito per brevità e credo che è veramente il modo migliore per ricordare Tognoli, che è stato per tanti di noi il sindaco, ed è ancora il sindaco, sia quello appunto di donare, insomma, di interrogarci con idee per Milano. Essendo in questo momento prorettrice con una delega specifica ai diritti e quindi in particolare mi è stato chiesto di ragionare sul tema femminile, ma sono anche una costituzionalista, quindi le ultime cose che ha detto la Ministra Gelmini mi consentiranno proprio di dire due parole come battuta finale. Volevo appunto concentrare il mio intervento su tre punti, però partendo da quello che ho sentito dire chiarissima, in maniera molto chiarissima, dall'ex sindaco Borghini, un altro sindaco. E cioè questa crisi, questa crisi che da cui poi individualmente poi nasce, può nascere coraggio, possono nascere sfide, come stiamo dicendo oggi, però non avrebbe effettivamente, non avrà senso se non ci farà, diciamo, avere qualcosa dentro che determinerà dei cambiamenti veri. Allora, dal mio punto di vista, di una professoressa universitaria che si è sempre occupata di tematiche femminili, anche a Milano, ora quello che si potrebbe veramente, quello che posso dire è che questo è un momento in cui cogliamo la possibilità di fare un salto di qualità, ma di fare un salto di qualità profonda. Perché? Perché alla luce della sfida del PNRR e della pandemia, ma già nel momento della pandemia, cos'è successo? E' successo intanto che le università hanno incominciato a fare rete. Cioè a Milano noi ci siamo sempre, diciamo, tenute nei vari steccati, al massimo avevamo un'università mica. Gli rettori stanno lavorando insieme, sia in Lombardia che a Milano, dal momento di inizio della pandemia. E hanno continuato e stanno continuando e continueranno con la sfida del PNRR. E il PNRR sfida le università proprio a fare un salto di qualità pazzesco, perché per la prima volta, anche a me, docente universitario, che non ci avevo mai pensato, cioè un pochino sì, però non così, quello che viene chiesto è finalmente che si faccia ricerca applicata. Non è che si butta via la ricerca pura, ma la ricerca applicata significa che l'università del pensiero, dell'approfondimento dei ricercatori, delle risorse umane, diciamo, fa esperienza insieme alle realtà imprenditoriali, territoriale e così. Allora, a Milano si faceva già molta ricerca applicata, però anche questo potrà essere un ulteriore salto di qualità. E arriviamo al tema femminile, che appunto, e quindi il coraggio, il coraggio che direi potrebbe essere un coraggio del doppio sguardo. E mi ha fatto molto piacere che Stefano Voeri abbia ricordato quella bellissima mostra voluta da Tognoli, in cui per la prima volta in Italia, e perché la cosa non aveva avuto molto seguito, nel 70 Linda Nocklin scrive un saggio, perché non ci sono state grandi artiste, e si scopre che, fino a quel momento, le donne artiste non erano raccontate come donne artiste, ce n'era qualcuno sparsa, ma c'era un problema proprio di struttura, di istituzione arte, che era un'istituzione, come tante, al maschile. E allora Tognoli volle quella mostra con cui finalmente si sfidò in Italia il tema dell'arte al femminile, e oggi ancora ci si interroga su quel punto. Però il problema di questa metà di risorse della società italiana, praticamente, per la maggior parte sprecate, sottovalutate, è un problema purtroppo non solo dell'Italia, ma anche di Milano. E allora anche qui stiamo lavorando in rete con l'università, per far, diciamo, interrogandoci su quali sono i progetti che potremmo fare in rete, ma con il mondo dell'impresa, del lavoro. Proprio oggi Daniela Mainini ha partecipato a un tavolo in statale, in cui abbiamo già messo in campo una serie di cose, e continueremo a farlo, e con le istituzioni ovviamente, per far sì che questo capitale venga sfruttato e venga portato a sistema. Perché anche qui, e mi avvio alle conclusioni, il PNRR fa fare un salto di qualità al tema. Per la prima volta il fattore D è visto non tanto come un qualcosa su cui investire in termini di poverine, le donne discriminate, il gruppo discriminato, ma invece come elemento per la ripartenza, come elemento tra l'altro trasversale. Qui anche la Ministra Bonetti, insieme alle altre Ministre, sta facendo un lavoro incredibile. E io qui vedo risorse, mezze in campo, non tanto appunto per dare delle cose direttamente a donne, quanto per mettere le donne nelle condizioni poi di accedere a tutte le risorse. Per esempio le risorse messe in campo in questo momento per la riqualificazione, per la formazione delle donne nelle materie STEM su cui sono più indietro. Quindi se riusciremo davvero a fare rete, e se si riuscirà in una città come Milano, a capire veramente il senso di quello che non sono appunto solo, come ha detto giustamente, in maniera molto efficace, amministra a Germini risorse, ma risorse per riforme. Ecco allora veramente, e non possiamo permetterci di rimanere indietro. Se invece tutto questo verrà visto con la solita logica vecchia di chi appunto affronta una crisi, ne esce, è contento e alla fine in fondo fa tutto come se nulla fosse stato, ovviamente il salto di qualità non si farà e l'Italia purtroppo rimarrà drammaticamente indietro. Concludo con dieci secondi sul problema delle riforme in generale istituzionali e delle riforme anche costituzionali. Come costituzionalista non posso che ragionare anche in questo momento sulla necessità appunto di tenere lo sguardo lungo e di pensare che alcuni meccanismi costituzionali come meccanismi di un orologio vadano sicuramente ritoccati e rivisti. Io personalmente lo pensavo appunto da tempo, anche in occasione dei vari appuntamenti che ci sono stati con le varie riforme costituzionali più ampie e meno ampie, oggi a maggior ragione dopo quello che è successo e dopo quello che si è visto anche del funzionamento delle istituzioni e anche del rapporto fra il livello locale a livello nazionale lo penso ancora di più. Abbiamo bisogno di queste cose, che sia diciamo in questo momento a farle non lo sappiamo, però sempre a Milano possiamo comunque in qualche modo interrogarci e far partire questi messaggi. Grazie.